Miei seguaci, questa non sarà una guerra di eroi. Le nazioni si massacreranno a vicenda, mentre noi ci arricchiremo. Ci sarà da divertirsi. Non potete tenermi rinchiuso mentre il mondo brucia. Figliolo, in verità è un mondo governato da corruzione e avidità. Dobbiamo intervenire. Certamente. Noi siamo la prima agenzia di intelligence indipendente. Raffinati ma brutali. Civilizzati ma spietati. Benvenuto nel club. Notevole. È ora di gettare benzina... ...sol fuoco... ...della rivoluzione. Sì, mio pastore. Benvenuto, inglese. Rasputin, la sua reputazione la precede. Risolviamola da gentiluomini. Dopotutto, i modi definiscono l'uomo. Perché voi uomini siete dei gran pasticcioni?